E quando fra le possibili soluzioni alla crisi qualcuno ha ipotizzato il ricorso ai responsabili, il pensiero di molti è andato a lui, Clemente Mastella. L'intervista è di Enzo Calise. Clemente Mastella, lei ha detto che è ora di dare dignità all'amante. Che cosa intende dire? C'è da dire che laddove c'erano eventuali responsabili, che poi erano tutto da disegnare e da definire, era giusto che fossero trattati con molta dignità. Perché chiunque si muoveva si muoveva in questa logica, quella di avere amore per il Paese. In un momento che tutto richiede, bisogna andare al voto, di rompersi nell'equilibrio politico nazionale, di governo e di opposizione, perché il Paese ha lo sbando. E il ritorno di Clemente Mastella? No, assolutamente no. Cioè dovrei dire che siamo talmente ridotti male per cui si arriva anche a me, vede come dico con molta simpatia, no. No, no, assolutamente no. Cioè io continuo a fare il sindaco alla mia comunità. Peraltro, vede, sono stato spinto a questo, anche da cose che non mi avrebbero comportato una forma di suggerimento. Perché io non ho fatto nulla di speciale se non suggerire a quelli che mi chiedevano di comportarsi in maniera adeguata, secondo me, con senso di responsabilità. Ma lo faccio il bene alla mia comunità. Si tratta di un puntello al governo Conte o c'è dietro un progetto politico? Ma guardi, il progetto politico porta avanti, c'è l'ora in avanti. Cioè mi muoverò con tanti amici che mi stanno chiamando in tutta Italia per fare un movimento. Diciamo, diciamo, chiamando a raccolte quelli vecchi combattenti, un po' tipo quando Cesare chiamava a raccolte i suoi veterani. La stessa cosa faccio anche io. Chiamando a raccolte i veterani miei, quelli di altri. E faremo una bella compagine nazionale per le prossime elezioni. Parliamo ora del recovery plan.